CARTOON STUDIO CARTOON STUDIO E' UN TORFASTRO MA CHE STA DICENDO DAI CORRIAMO E' UN TORFASTRO MA CHE STA DICENDO DAI CORRIAMO CHE STALEVA E' UN TORFASTRO MA CHE STALEVA E' UN TORFASTRO MA CHE STALEVA E' UN TORFASTRO MA CHE STALEVA Allora che provo a uscire. Allora, il terpesta è nuovo. Allora siamo pari. Ciao. Via, 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 via. Ups. La nostra vita è il pistolino. No, il pistolino no, il pistolino no. Non ci voglio andare dalla testa. E si vede che ha cambiato idea. Ups. Buga, pista. Mando andarlo. E ora di pistolino, ne resterà soltanto uno. Grazie sua. Ma ragazzi, dove sta mazza? Ups. Ups. Immortale. E' tutto, gente.